Nel 2020 un virus ha invaso il mondo V4Virus Milano 2030 Il contagio è inarrestabile a causa del fatto che la gente non riesce a stare a casa in quarantena Nemmeno fosse Gesù nel deserto Per contrastare questo flagello di irresponsabilità si è deciso di passare alle maniere forti Il governo o quel che ne resta ingaggia persone come me per ristabilire l'ordine Socializzare di questi tempi non è mai stato così pericoloso Mi danno lo stretto necessario, si fa per dire Con cui accedo a videocamere di sorveglianza e sicurezza così da avere la situazione sotto controllo Vedete questi tre fenomeni? Prima della pandemia erano in cassa integrazione e si ritrovavano davanti a un supermercato tutti i giorni per ubriacarsi Dieci anni dopo non è cambiato nulla Sono sempre in cassa integrazione e ubriachi Pure il supermercato è lo stesso Quando il mondo si trova sull'orlo dell'abisso, la gente finge di non vedere Vive nell'ansia che le cose possano smettere di essere come sono sempre state Così nell'attesa si comporta come se nulla fosse Vi ricordate quando c'erano gli attentati terroristici? Il giorno dopo eravamo tutti per strada e nei locali a sottolineare che la paura non ci avrebbe fermato Volete un consiglio? Fate l'esatto contrario State in casa e fate i conti con l'angoscia Sprofondateci Recuperate il senso del tragico L'era del cazzeggio è finita E se proprio dovete uscire, ricordate Sono vietati gli assembramenti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti